benvenuti a una nuova puntata di doctor penis oggi siamo insieme a samuele 24 anni molto molto giovane è arrivato alla nostra attenzione inizialmente perché aveva un pene curvo ventralmente ma veramente molto curvo aveva fatto un intervento di circoncisione fatto malissimo con una cicatrice un cheloide tremendo prima di questo tipo di problematica di pene curvo già aveva manifestato la diciamo la condizione di deficit e rettile non riusciva ad avere una buona erezione abbiamo fatto un raddrizzamento del pene abbiamo corretto la vecchia cicatrice però questo non è servito è servito esteticamente a farlo stare meglio perché il pene veramente troppo molto curvo verso il basso però non ha risolto ovviamente il deficit e rettile siamo qui a pochi giorni dal dal ricovero di samuele che effettuerà nel nostro centro un impianto di protesi peniene idraulica tricomponente samuele qui ci racconta un po il suo stato d'animo qual è stato il suo percorso in questo periodo di avvicinamento alla protesi peniene e soprattutto qual è il tuo stato d'animo come ha detto il prof sono arrivato da lui diciamo in una condizione un po non dico disperata però quasi avevo come ha detto una curvatura verso il basso abbastanza importante di 40 50 gradi di più era di 50 gradi per più era così era 50 gradi quasi 90 gradi e anche una vecchia cicatrice di una circondizione circoncisione fatta veramente male come ha detto anche lui quindi abbiamo deciso di correggere questa cosa ed è andato perfettamente però ovviamente era rimasto il problema di fuga venosa abbiamo provato le pillole ma non hanno dato l'effetto sperato e quindi abbiamo deciso di impiantare nella protesi ma quindi la fuga venosa esiste o non esiste perché tanti medici dicono che non esiste la fuga venosa vabbè adesso potremmo vivere un congresso ma si esiste esiste e non solo l'unico purtroppo quanti specialisti t'hanno visto e che cosa t'hanno detto prima di arrivare a me in due tre specialisti non mi hanno detto guarda è tutto nella tua testa fai un percorso psicologico perché non esiste come condizione non hai niente però però il problema c'era e quindi alla fine mi sono rivolto ad antonino a calviato allora quello che dico sempre è che non solo i problemi di deficit interettiche vanno diagnosticati sicuramente hanno fatto una diagnosi credo fatta bene ma vanno anche affrontati perché è molto riduttivo e poco risolutivo dire a un giovane di 24 anni che è un problema emotivo psicologico tu non mi sembri uno emotivamente psicologicamente che sta male dirgli che è solo un problema di testa qualche volta succede ma in altri casi bisogna avere la forza il coraggio di poter affrontare il problema quello che io stesso molto come concetto è che fare un impianto di protesi a un ragazzo di 24 anni che è tra virgolette disperato perché tu non trovi una fidanzata ti allontani non fai una vita sociale perché hai paura di confrontarti con l'altro sesso fare un impianto a un ragazzo un giovane di 24 io ho impiantato anche un giovane di 21 anni e richiede una grande sicurezza e una grande competenza cioè noi sappiamo veramente quello che facciamo in più fare un intervento che riduce nettamente i rischi di questo tipo di procedura chirurgica che sono i rischi di infezione può dare al paziente una tranquillità in termini proprio di risultato e di successo quindi è molto facile dire no guarda non lo fare perché sei giovane che deve aspettare perché bisogna aspettare a 35 a 40 anni quei 15 anni di vita che te ridà solo nei centri che hanno una grande capacità un grande volume possono dare una risposta a questo tipo di problematica perché altrimenti i pazienti come te girano e passano la loro gioventù così a fuggire dall'altro sesso sei d'accordo da questo punto di che ne pensi? meno che aspettare il problema che risolto subito t'hanno detto che eri mezzo matto t'hanno fatto capì che eri mezzo matto? più o meno ci so girare intorno però sì questo questo è il problema allora tante volte il medico dà l'indicazione per se stesso non lo so fare è più facile dire io non ho la capacità vai nel centro dove fanno questo tipo di procedura che probabilmente potrai dare una risposta al tuo problema dire al paziente che è fuori di testa o che ha problemi emotivi da andare dallo psicologo o psichiatra secondo me non è non è corretto ci sono delle indicazioni ovviamente tante volte con dei pazienti ma non sempre Emanuele anzi Samuele scusami è molto equilibrato da questo punto di vista che ti aspetti Samuele da questo tipo di procedura? mi hai chiesto questa storia una volta per tutto non ce la fai più? mi sono rotto le scate le cose lo so anni che ci sbatto la capoccia basta com'è la protesi l'hai vista ti fa paura? no no hai capito come funziona tutto il meccanismo sei conscio non sei matto? no no sono da Roma insomma no vabbè lascia stare questo qui non è insomma è proprio un difetto di cosa sei convinto di quello che stiamo per fare io ho cercato di scoraggiarti no diva questa cosa perché è importante ho cercato di scoraggiarmi e dire guarda vediamo prima se è psicologico o no ma anche se ho provato comunque il problema rimane sì beh noi quello che abbiamo fatto abbiamo provato a fare tutti i tipi di trattamenti le compresse abbiamo provato anche con il col col preapo shot per rigenerare un po i tessuti ma se c'è un problema di natura venosa le vene non tengono e quindi il pene perde poi ovviamente subentra anche la componente emotiva psicologica e questo innesca un meccanismo tremendo che poi te fa fa una vita brutta volessi avvena ragazza? sarebbe molto va bene va bene ringraziamo samuele ci vediamo fra qualche giorno in sala operatoria pronti a risolvere il tuo problema ti aspettiamo per darci poi un feedback o un riscontro di quella che sarà la tua nuova vita sessuale promesso bene invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'email in sovraimpressione vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di dr penis ciao samuel ciao ciao a tutti